Io credo che Joe Biden intendeva dire esattamente quello che ha detto l'altra sera quando ha detto per l'amor di Dio questo uomo non deve rimanere al potere. Era uno sfogo, era emotivo, era poco diplomatico, è probabilmente quello che tutti sperano fra i leader dell'Europa e l'America ma non dicono perché, non si dicono queste cose, non si dice queste cose. Ma detto questo, ieri sera ho visto Biden che ha detto io non ritiro queste parole ma vi dico non sto cercando di cambiare regime, non sto cercando di fare questo ma volevo esprimere il mio senso di essere scioccato e all'abito moralmente da questa attività di uccidere civili in Ucraina. Questo qui. Poi non deve essere dimenticato che Biden ha pronunciato queste parole proprio nello stesso momento in cui era in Polonia vicino alla confine e Putin per darlo un benvenuto evidentemente ha fatto il bombardamento di Leopoli che evidentemente ha fatto arrabbiare Biden. Quindi si è sfogato. Detto questo, io credo che, poi sarei curioso di sentire quello che i colleghi pensano, io credo che Putin ha ogni possibilità di rimanere al potere altri 15 anni. Non credo che Putin sarà fatto fuori presto, io non sono informato sui segreti di Mosca ma credo che la vera sfida per tutti noi sarà fast forward, un altro due settimane, cinque settimane, un mese di bombardamenti, poi finalmente qualche fine di questa guerra con qualche compromesso ma le sanzioni non saranno tolti immediatamente. Ci saranno un periodo di mesi e mesi in cui gli americani e gli europei chiederanno le verifiche sulle misure concordate fra Ucraina e Russia. Nella diplomazia si va per lungo. e quindi la Russia sostanzialmente rimarrà un stato paria, paria si dice in italiano, paria, 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 scusate la pronuncia, per tanto tempo e la vera sfida sarà come evitare questo perché l'implicazione, Andrea, di quello che sta succedendo oggi vanno ben oltre l'Ucraina e l'Europa, si parla di deglobalizzazione, si parla di stagflazione nell'economia che può restare con noi per tanto tempo, questa è una situazione in cui che Biden lo chiama un macellaio e che Putin uccide bambini a Mariupol, questo fa parte della guerra, non si ama il nemico. Alla fine io credo che Macron, e chiudo qui, Macron sta facendo una campagna elettorale in Francia quindi ogni cosa che Macron dice va visto attraverso questa legge anche. Dobbiamo leggere queste dichiarazioni ovviamente anche in chiave interna, sia per Biden che dovrà affrontare le elezioni di medio termine sia per Macron che adesso invece si ricandida alla guida della Francia. Ecco c'è un'ultima cosa da aggiungere, ricordiamo che con novembre Biden rischia di perdere il controllo del congresso, del senato e della camera quindi se Biden fa la voce forte può anche essere con un occhio sulla politica americana interna. Sì